La fase finale di questo secondo giro, 41 i secondi e 44. Due concorrenti prima della chiusura e chi sarà il vincitore di questa terza edizione, Oxer del Cetona, Alessandro Riario Sforza, numero 46. La fase finale di questo secondo giro. Grazie. La chiusura totale per Alessandro Riario Sforza che si porta al comando. Bene, quindi a questo punto è tutto in mano a Daniele Darius.